ciao a tutti ecco il drone che vede l'invisibile ovvero dji mavic 3t enterprise si chiama 3t perché la t sta per thermal ha una camera termica gimbal a tripla camera camera termica camera tele con zoom ottico 7x e un'ulteriore camera sul visibile da mezzo pollice da 48 megapixel ha uno zoom ibrido digitale che può arrivare fino a 56 per il mio intento è quello di verificare le capacità di questo drone nella ricerca e soccorso sia di giorno che di notte benvenuti in un nuovo video di quadricottero news a proposito di visibilità il monitor integrato da 5,5 pollici si vede anche sotto la luce diretta del sole perché ha mille nit di luminosità il drone è dotato anche di un beacon installato sulla parte superiore che in questo momento ho attivato serve per essere visibile agli aeromobili con equipaggio per questo è posizionato sopra ma è visibile anche da terra in certe angolazioni come ho detto nel precedente video tecnicamente si tratta di un mavic 3 pesa leggermente di più perché ha le modifiche per installare gli accessori la batteria è la stessa del mavic 3 quindi sono intercambiabili le eliche sono leggermente diverse nella parte finale sulla punta tuttavia ufficialmente si possono usare anche le eliche del mavic 3 il radiocomando è la versione enterprise del gi rc pro che ha anche il microfono integrato inoltre si usa la dgi pilot 2 come app come caratteristiche di volo sono praticamente identiche a quelle del mavic 3 quindi caratteristiche e comportamento di volo eccellenti la sensoristica è uguale a quella del mavic 3 quindi evitamento ostacoli 360 gradi apas 5.0 anche precision landing atterraggio di precisione a patto di decollare in verticale fino ad almeno 7 metri rispetto al punto di decollo per dare modo alle telecamere verticali di scattare le foto del punto di decollo in modo che poi quando tornerà a casa in modo automatico portandosi sulla verticale riesca a riconoscere precisamente da dove ha decollato il sistema funziona se il punto di decollo ha caratteristiche diverse dal terreno circostante c'è anche la modalità sport e in questo caso bisogna fare attenzione agli spazi di frenata quando si lasciano gli stick al centro perché andando più veloce ha bisogno di più spazio come ho detto ha un comportamento di volo uguale al mavic 3 non ci sono non ho riscontrato differenze ma passiamo alla prova alla verifica delle capacità per quanto riguarda la ricerca e soccorso e iniziamo con il volo notturno quando è buio oppure c'è scarsa luminosità se la relativa voce è settata in modalità automatica il drone accende la luce i doppi led verticali per illuminare il terreno per poi spegnerli automaticamente quando raggiunge una certa altezza di qualche metro questa è la luce che fa il drone con accesi i due led verticali ma guardate qua cosa succede guardate ops è caduto ovviamente non è caduto ho semplicemente attivato la discrete mode con la questa modalità il drone è praticamente invisibile perché tiene le luci tutte spente con tutte le luci spente con il rumore che a 50 metri non si sente più questa drone di notte è assolutamente invisibile non si può notare e con lo zoom 56x la camera termica è un formidabile strumento per la sorveglianza anche da parte delle forze dell'ordine per noi comuni mortali vi ricordo che non è permesso far volare un drone di notte se non ha almeno una luce verde lampeggiante notare gli iso che arrivano fino a 25.600 mentre con l'enterprise normale il limite è intorno ai 6.000 ovviamente a 7x lo zoom è ottico perché usa l'obiettivo naturale se ingrandiamo l'immagine si degrada possiamo arrivare fino a 56x fino a 6.9x ingrandisce digitalmente l'immagine della camera 48 megapixel 7x utilizza lo zoom ottico tele e da 7x in poi utilizza lo zoom digitale ibrido e questo è il risultato e questa è l'immagine proveniente dalla camera termica in questo momento ho linkato lo zoom cioè ho fatto in modo che quando affianco le due immagini quella sul visibile e quella termica abbiano lo stesso livello di zoom equivalente come in questo caso le due immagini sono equivalenti però l'immagine infrarossa è stata ingrandita 13,4 volte mentre quella sul visibile 8,9 volte ovviamente l'immagine infrarossa a questo livello di ingrandimento è molto degradata perché la risoluzione nativa è 640x512 per le applicazioni di ricerca e soccorso quindi per ricerca di persone animali e comunque esseri viventi è molto importante scegliere la palette giusta ed eventualmente anche sintonizzare bene la temperatura rispetto all'ambiente in cui ci troviamo in modo da evidenziare meglio il target che stiamo cercando ad esempio in questo caso ho sintonizzato la temperatura da 21 a 25 gradi in modo che vengono evidenziate che venga evidenziato questo range di temperatura faccio una panoramica siamo sulla spiaggia ed ecco che ho individuato un possibile target allora faccio inizio a fare lo zoom con la camera termica e vedo che potrebbero essere effettivamente due persone se affianco l'immagine sul visibile vedete che non si vede niente perché è buio sono si trovano in una zona buia e quindi non si riescono a notare con la camera sul visibile se non ingrandendo moltissimo vedete i vantaggi che può dare una camera termica nella ricerca e soccorso ovviamente ci deve essere una certa differenza di temperatura tra il target che stiamo cercando e l'ambiente circostante questa camera termica ha un'ottima sensibilità termica sotto i 50 millikelvin quindi riesce a individuare differenze di temperatura di 50 millesimi di grado in questo caso ho utilizzato la palette hot white che è una di quelle che preferisco e vedete che ho già individuato delle persone sono a più di 100 metri dal punto ohm e il drone si pilota tranquillamente a vista perché le luci di navigazione permettono il pilotaggio a vista tranquillamente in questo caso può essere utilizzato in condizioni a 2 quindi 50 metri di distanza dalle persone non informate oppure in a 1 a 3 a 150 metri di distanza rispetto alle zone residenziali via dicendo quindi è meglio utilizzarlo in a 2 oppure in ambito specific scenari standard oppure pdra oppure operazioni specifiche con autorizzazione a seguito di analisi sora autorizzazione che ovviamente deve rilasciare enac comunque chi utilizza questi mezzi per la ricerca e soccorso è a conoscenza degli aspetti regolamentari quindi non mi dilungo troppo insomma scegliendo la palette e sintonizzando eventualmente temperature si riescono a fare cose egregie con questa termocamera nell'ambito ricerca e soccorso naturalmente di notte gli iso si alzano e quindi c'è molto rumore però vedete questo è lo zoom 7x il zoom ottico come sul Mavic 3 il 7x è la risoluzione ideale per quanto riguarda lo zoom perché è ottico altre risoluzioni si degradano sia inferiore al 7x che superiore a 7x vedete si vede proprio la netta differenza perché come ho spiegato prima alle altre risoluzioni interviene lo zoom digitale qua siamo sempre con la termocamera palette white hot e guardate qua si vedono le persone sul molo ma la cosa interessante molto interessante è che queste persone si vedono con la camera termica però se io switcho sul visibile non le vedo più si vedono soltanto con la camera termica guardate sembrano invisibili non si riescono proprio a vedere anche se ingrandisco non si riescono a vedere ecco adesso a 7x qualcosina che si muove si riesce a vedere però guardate che differenza tra l'altro la camera termica adesso ha uno zoom 10 perché è attivo il link dello zoom in modo da confrontare allo stesso livello di grandezza le due immagini queste sono le immagini registrate dal drone su sd card perché le immagini che abbiamo visto fino adesso sono quelle ricevute sul radiocomando djrc pro enterprise naturalmente ho voluto fare così perché quando si fa ricerca soccorso quello che conta è l'immagine in real time immagine come abbiamo visto molto definita e il video di ritorno è a 1080p e non si sono visti nemmeno troppi scatti quindi immagini molto fluide tra l'altro la termocamera funziona a 30 fps questo invece è una clip sul visibile giusto per vedere come si comporta la camera a risoluzione piena registrata sul micro sd card di notte e direi che posso provare il ritorno a casa automatico ed eccolo qua che accende la luce automaticamente per atterrare e lo proviamo di giorno vediamo la capacità di zoom di giorno se riesce a individuare una persona proviamo facciamo un po di prove con questo zoom spingendolo al massimo in condizioni di luce diurna guardate che livelli ed è semplicemente incredibile ed eccomi qua adesso voglio provare se di giorno la camera termica riesce a individuare bene una persona nel frattempo vi saluto ma non fate via perché la prova non è non è finita vediamo ancora questa parte il bip di sottofondo è dato dei sensori rilevamento ostacoli o la pass attiva quindi rilevamento ed evitamento ostacoli mi allontano ho settato manualmente la temperatura il range da 19 gradi a 37 è una giornata di ottobre però ancora calda infatti vicino a me il suolo è caldo quasi come la mia temperatura perché io ho i vestiti ovviamente e quindi mi confondo vedete è difficile rilevarmi in queste condizioni è una prova che ho voluto fare mi sono allontanato apposta per vedere cosa riesce a fare questa termocamera come ho detto se non c'è abbastanza differenza di temperatura tra il mio corpo e l'ambiente circostante le cose si complicano si può avere un aiuto facendo la calibrazione ffc comunque vedete che se mi sposto vengo rilevato benissimo vediamo cosa succede se allontano il drone sono a 100 metri e mi riesce ancora a rilevare vedete 138 metri e guardate sopra sta arrivando una persona sulla strada e l'ha rilevata allora ingrandisco per vedere meglio switcho anche sul visibile vedete che riesco a individuare la persona adesso sta entrando in un'isola di calore e quindi è più difficile rilevarla con la termocamera però devo dire che è veramente performante questa termocamera ha una risoluzione da 640 x 512 ma quello che conta è la sensibilità termica che come ho detto all'inizio è di 50 mili kelvin insomma questo drone per la ricerca e soccorso è fantastico a mio avviso è lo strumento ideale anche perché è piccolo è grande come un mavic 3 ed ha un'ottima autonomia di volo nelle mie prove ho raggiunto i 29 30 minuti con ancora 5 minuti di carica residua tra l'altro ha anche la ricezione galileo e quindi facilmente può raggiungere i 30 satelliti agganciati insomma se chi lo conduce sa come gestirlo anche dal punto di vista della termocamera può ottenere degli ottimi risultati nella ricerca e soccorso quindi per quanto mi riguarda assolutamente promosso straconsigliato in questi ambiti è giunto il momento di salutarvi grazie per l'attenzione spero che questo video vi sia stato utile per capire meglio questo le prestazioni di questo drone iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un like se questo video vi è stato utile ci vediamo con il prossimo video su quadricottero news ciao a tutti e buona continuazione